Secondo la legge giudaica, Gesù di Nazareth veritava o no di essere condannato? Il figlio di un falegname, di una umile donna di nome Maria, non era certo l'origine che le Sacre Scritture profetizzavano per il Messia. Com'era nato quel figlio? Era stato il mio primo grande tremore. Gesù di Nazareth non era il Messia che stavamo aspettando. Che ragione avremmo avuto noi, ditemi. Io non vi dico perché dovete assolvere Pilato, vi dico perché non potete condannarlo. La gente come me, se non avesse la certezza che Gesù è venuto per salvare anche noi, sarebbe disperato. Caefa era prevista la morte di Gesù. Gesù di Nazareth si è voluto far credere il Messia. Io sono colui che aspettavo. Per la prima volta si sentì annunciare che tutti gli uomini erano uguali, tutti. E che giuda, divenne improvvisamente invidioso di me e della predilezione che Gesù mi dimostrava. Voi dunque asserite di aver creduto fermamente ai miracoli, lo confermate? Sei sicuro? Certo, senz'altro. E come mai? Tu l'hai rinnegato. Dile al mondo! Perché non siete stati capaci di cambiare il mondo? Noi non possiamo essere tutti sani. Ma? Tu dovevi disoppedirgli se gli volevi davvero bene. Lo sopevi che io gli avrei fatto del male. Credi che non sia straziante dire addio? Ma tutto quello che era la tua ragione in vita, di più una speranza di vita eterna era. E questo processo ci sfugge di mano. Io non lo sapevo che sarebbe stato messo a morte, crocifisso. Io non lo sapevo. Non credete a quello che vi dicono mai? Perché non moriste tutti con lui, per lui? Cercavamo qualcuno che ci aiutasse a farlo tacere, a far scomparire Gesù. Fate silenzio a tutti, rispettabili ascoltatori. Pronunceremo la sentenza. Non lo sapevo. 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 Grazie a tutti.